Anticipazione imposta al sole. Venerdì 11 giugno 2021. Pietro decide di seguire il consiglio di Lara e di cercare di manipolare Fabrizio per portare a termine i suoi losti affari. Ha bisogno di lui più che mai. Intanto però la Martinelli continua a fare il doppio gioco e a muoversi su due fronti. Tutto ciò quali conseguenze produrrà? Nonostante i suoi continui sotterfugi, la Martinelli è determinata a scoprire informazioni utili a salvare la situazione in cui si trova Ferri. Giancarlo nel frattempo cerca un avvicinamento con Silvia. La donna è sempre più scossa e confusa a livello sentimentale e non è affatto insensibile al fascino del nuovo arrivato. Michele invece è sempre più frustrato a causa della sua critica situazione lavorativa e non intravede alcuna via d'uscita. Intanto un piccolo malessere occorso ad un suo caro amico dessano poca preoccupazione in franco. Cosa accadrà? Cosa Grazie a tutti.